Dominus Vobiscum, sit nomen Domini Benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Mentre viene eseguito l'inno in onore di San Benedetto e di Santa Scolastica, il Santo Padre e l'Arci Abate di Monte Cassino si recano presso la tomba di San Benedetto e qui come possiamo vedere il Santo Padre accende la lampada sulla tomba e quindi incenserà. San Benedetto e di San Benedetto e di San Benedetto e di San Benedetto. San Benedetto e di San Benedetto, San Benedetto e di 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 San Benedetto Grazie a tutti. Grazie a tutti.